Oh, signore, la mia pancia! Ti sei tolto l'appendicite? Ancora no, ho sempre voluto farlo, ma chi ce l'ha il tempo? Dai, ti accompagno all'ospedale. Allora è così che deve finire. Quale crudele ironia. Proprio appena assumo l'impegno di preservare il mio corpo, vengo tradito dalla mia appendice, un organo superfluo. Leonard, sai qual era in origine la funzione dell'appendice? No, io sì. Cioè, nonostante morirò e tu resterai in vita. È buffo come vanno le cose, eh? Oh, signore, credo che stia per esplodere! D'altra parte, potrebbero essere stati i cavoletti di Bruxelles. Buonanotte. Buonanotte. L'appendicite è sempre il solito allarmista. Buonanotte. 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 Buonanotte.